Oggi firmeranno il contratto 50 nuovi assunti per lo scorrimento di una gradatoria di un concorso fatto nel corso del 2023 e a seguire nei prossimi giorni fino a fine anno ci saranno altri contingenti di nuove firme di contratti di 75 persone, di altri 57 persone, ci sarà la stabilizzazione di 6 persone che sono state selezionate dall'Agenzia di coesione, ci sarà l'assunzione di 31 invalidi civili ai sensi della legge 68, cosa che la Regione Calabria non faceva da decenni e che consentirà alla Regione di essere finalmente in regola anche nel rispetto della legge 68, ci sarà l'assunzione di 6 operatori di categoria B dall'elenco degli invalidi, dall'elenco delle vittime della criminalità organizzata e del dovere. Insomma, tutte queste iniziative e queste firme di contratti che avverranno da qui a fine anno prevede complessivamente l'introduzione in cittadella di 280 persone nuove, unità nuove, funzionari di categoria D, istruttori amministrativi di categoria C e anche operatori di categoria B. Il che vuol dire dare veramente un'importante ventata di area nuova in cittadella negli uffici amministrativi. Io so che il Presidente regionale, il Presidente Occhiuto, tiene molto al rinnovo e al potenziamento degli uffici della Regione perché, come dice sempre, la maggioranza, l'80% dei procedimenti amministrativi della Regione Calabria sono svolti in cittadella e quindi c'è oggi un non corretto dimensionamento del personale tra cittadella e uffici regionali a discapito della cittadella. Negli anni scorsi, per effetto dei pensionamenti, gli uffici dei dipartimenti si sono impoveriti. Oggi con queste assunzioni cerchiamo e diamo un'importante ventata di novità e introduzione di linfa nuova, perché tutti ragazzi, giovani, laureati o anche non laureati, ma che comunque hanno superato un concorso soddisfatti e contenti di poter entrare e lavorare per la Regione Calabria. Questo per me è un importante segno del risultato di tutto il lavoro che è stato fatto anche nel corso del 22 e del 23. In particolare continueremo nel 24 perché nel 24 si chiuderà l'ultimo grande concorso che abbiamo fatto per l'assunzione di 80 amministrativi. Stanno per partire 925 colloqui che si svolgeranno a Roma presso il Formez, colloqui che daranno a noi la possibilità poi di avere una graduatoria di 80 persone, da cui prenderemo le 80 persone previste, più altre 70. Quindi ci saranno altre 150 assunzioni nei primi mesi del 2024. Tutto questo completa il piano del fabbisogno che avevamo previsto, approvato in giunta nel settembre del 2023. Quindi io da questo punto di vista sono molto soddisfatto. Il Presidente e io abbiamo portato i saluti ai nuovi assunti perché gli diamo il benvenuto ed è un'importante giornata, questa di oggi e quelle future fino alla fine dell'anno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.